Sindacati mobilitati contro il forte rischio chiusura della sezione staccata del Tarrabruzzo di Pescara che è risultata la più produttiva d'Italia con una percentuale del 64%. Questa mattina assemblea permanente di dipendenti magistrati e avvocati presso la sala conferenze del Taradriatico dove era presente anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Pescara Donato Di Campli che ha confermato che da oggi fino al 29 luglio e dunque per l'intera settimana gli avvocati si asterranno da tutte le udienze civili penali amministrative e tributarie. Da premettere che il sindacato in termini di principio non è assolutamente contrario a una riforma della pubblica amministrazione, una riforma che rispetto alle varie difficoltà di disorganizzazione, corruzione e diciamo spesa impropria va assolutamente riformata e questa è la premessa. È chiaro che il sindacato però non può accettare delle riforme che siano riforme e provvedimenti di facciata come quella nel caso dell'abolizione dell'articolo delle sezioni staccate in questo caso di Pescara perché effettivamente rispetto agli obiettivi che la finanza pubblica si pone rispetto alla semplificazione, alla trasparenza, alla funzionalità degli uffici giudiziari tutto questo l'articolo 18 non lo persegue. Non è una difesa d'occurre solo dei lavoratori ma del territorio, di quello che il TAR rappresenta per questo territorio che è stato scelto nel passato di creare una sezione staccata proprio per cui era concentrata tutta l'attività produttiva sulla fascia costiera. Ci sono Chieti e Pescara che sono due centri molto importanti da questo punto di vista e che quindi richiedevano e hanno usufruito della possibilità di avere una sede qua vicino e oggi non si capisce qual è il risparmio che si realizzi chiudendo una sede staccata che funziona, che con 10 dipendenti garantisce e ha tolto tutto l'arretrato. La domanda è ma perché chiuderla? Se funziona e se va bene? Una sezione staccata che va bene, funziona bene, è una sezione dove i lavoratori hanno la dimostrazione di essere dei lavoratori di serie A nel senso che sono stati tolti agli arretrati il 64% del contenzioso, abbiamo i provvedimenti che vengono trattati in 18 mesi, cosa che non avviene in altre sezioni, ma voi tenete presente che in una prima tesura del decreto sono 8 sezioni staccate in Italia che dovevano essere soppresse, adesso già si sono ridotti a 3 con una serie di emendamenti. Tra queste Pescara? Tra queste Pescara, Latina e Parma, però a noi chiaramente è ovvio che interessa Pescara come territorio ma soprattutto non è soltanto un discorso di trasferimento dei lavoratori, è un discorso che praticamente c'è una giustizia negata per i cittadini, per gli utenti che praticamente dovranno sobbarcarsi ulteriori spese, ulteriori oneri per andare a trattare dei ricorsi nella città dell'Aquila quando c'era una sezione che funzionava bene.